Ma ti prendono tutti in giro, ma perché? Ma io sono il Giamburrasca dello spogliatoio Al Milan una grande scelta? Assolutamente sì, però sempre nel cuore alla Sampdoria Questo è il colpo di Takendoti e Ibrahimovic Quella è la testa di c***o, mi ha già fatto male qua Adesso mi ha fatto male qua La Sampdoria si salverà? Me lo auguro col cuore, tipo per loro